La data è il 27 maggio del 1817, il luogo un piccolo villaggio di nome Erdinton a circa 5 miglia da Birmingham in Inghilterra, e la situazione un omicidio. Mary Ashford ha compiuto da poco vent'anni ed è andata con la sua amica al Tyburn House in per ballare. Non può sapere che quella, sarà la sua ultima notte. Poche ore dopo infatti il suo corpo venne ritrovato in una fossa, qualcuno l'aveva brutalmente uccisa. Tra i principali indiziati venne accusato un uomo di nome Abram Thornton anche lui alla festa e che stando ad alcuni testimoni fu l'ultimo a vedere la ragazza, venne anche trovata una traccia nel suo stivale che sembrava corrispondere all'orma trovata sul luogo del delitto, ma tutto ciò non bastò a fare arrestare Abram Thornton che venne rilasciato lasciando il caso della giovane Mary irrisolto. Successivamente ci fu anche un appello ma l'esito fu lo stesso. L'omicidio sconvolse tutti, amici e familiari della giovane Mary, la popolazione del piccolo villaggio ma anche lo stesso Abram Thornton che anche se libero alla fine decise di emigrare negli Stati Uniti. È il 1974 e lo stesso villaggio di Erdinton cambiato per certi aspetti, valza alla cronaca per un nuovo omicidio. Ad essere uccisa questa volta è una giovane ragazza di nome Barbara Forrest. Ma questo sembra non essere un altro omicidio come tanti, perché la polizia comincia a fare nel corso delle indagini delle scoperte a dir poco inquietanti. Innanzitutto la data dell'omicidio è la stessa data e cioè il 27 maggio e si tratta di un giorno di pentecoste per entrambi i giorni, poi l'omicidio è avvenuto con la stessa modalità, e uguale è il tentativo di nascondere il corpo, oltre al ritrovamento che è stato avvenuto a soli 250 metri di distanza dal primo caso. Certo, starai pensando che sono passati ben 157 anni da quell'omicidio e che probabilmente si tratta di una semplice coincidenza, anche se in ballo c'è più di una situazione simile, ma comunque potrebbe essere una triste coincidenza che ha visto due giovani ragazze essere uccise. A pensarci bene infatti Mary nacque nel 1797 mentre Barbara nacque nel 1954, non erano parenti, non si somigliavano e anche per i tempi diversi non avevano molto in comune, ma aspetta perché forse cambierai idea o comunque ti verrà qualche dubbio e qualche riflessione dovrai farla. Devi sapere allora che sia Mary che Barbara non solo morirono lo stesso giorno ma nacquero addirittura nello stesso giorno, sia Mary che Barbara la sera che vennero uccise andarono ad un ballo con un amico indossando un vestito nuovo che cambiarono, inoltre l'omicidio non solo avvenne con la stessa modalità e ci fu lo stesso tentativo di occultare il corpo, ma avvenne all'incirca alla stessa ora. E non è finita qui, perché devi sapere che il presunto assassino di Barbara si chiamava Michael ma come cognome faceva Thornton, lo stesso cognome Thornton dell'omicidio del 27 maggio 1817. E' presunto perché anche lui venne accusato ma alla fine scagionato per mancanza di prove. Come il precedente, l'omicidio di Barbara non trovò mai un colpevole avvolgendo nel mistero i due eventi. Infine, ho trovato anche questa situazione che può rendere ancora più misteriose le due vicende, entrambe le ragazze ebbero qualche giorno prima uno strano presentimento che raccontarono. Nonostante gli sforzi compiuti per svelare la verità dietro questi tragici eventi, le risposte sono rimaste sfuggenti, come se il destino stesso avesse intrecciato le loro storie nel tessuto dell'incertezza, ma alla fine proprio questo senso di mistero che avvolge le vicende di Mary e Barbara ci deve portare a riflettere sulla complessità dell'esistenza umana e sulla nostra limitata comprensione della realtà e su chi siamo. La storia si è ripetuta. E allora questa è una semplice coincidenza o c'è qualcos'altro? E cosa, secondo te? Bene. Spero che con questo video hai conosciuto qualcosa in più che non sapevi e ti ringrazio per essere arrivato fino a qui. Quale di queste curiosità ti hanno colpito? Scrivilo nei commenti. E se ti è piaciuto questo video metti un mi piace, iscriviti e attiva la campanella per essere sempre aggiornato su altri video di questo canale. Ecco qui a fianco puoi trovare alcuni video, ma se vuoi puoi cliccare anche direttamente sul mio canale e sceglierne altri con altrettante curiosità che spero apprezzerai. Il mondo è pieno di curiosità, scopriamole insieme. Grazie a tutti.